ciao ragazzi ciao ragazze benvenuti o bentornati sul mio canale in questo nuovo video vi volevo fare l'aggiornamento dei prodotti makeup finiti nel mese di febbraio non sono veramente pochissimi prodotti però comunque mi ritengo soddisfatta di quello che ho finito ho finito e cominciamo subito questa matita per sopracciglia di astra se ne è veramente rimasta un'applicazione ma non riesco cioè faccio fatica ad appuntarlo e quindi vabbè ho tanti altri prodotti delle sopracciglia e quindi per una sopracciglia sola non la vado a finire ed è la numero e b2 è un po troppo scura per me però quello prima troppo chiaro più che altro troppo rossiccio però devo dire che è una buona matita per le sopracciglia l'unica cosa è che la mina finisce subito io perché io comunque me le devo disegnare da zero avendo tre peli qua e basta e quindi l'ho consumata veramente nel giro di due balletti perché ogni metà sopracciglia dovevo riappuntarla per farmi vedere comunque delle sopracciglia decenti però mi ci sono trovata veramente strastrabene ed è anche super economica quindi ve la straconsiglio perché costano in circa 4 euro quindi per voi che comunque avete più sopracciglia di me è molto molto figa come su come matita e poi c'è anche tipo il soppettino poi ho finito di mac cosmetics che non vado a buttare per il betto mac visto che è rimasto all'incirca un mese e mezzo per il betto mac ho finito questo spray fissante fits più matt meno male perché veramente lo spruzzo fatto così a me non mi è piaciuto per quanto l'azione fissante da buona era troppo forte come spruzzo preferisco l'altro il fratellino quello nuovo lo stay over che anche senza alcool quindi top quindi questo lo lascio come il lascio che ho finito velvet teddy l'ennesima confezione di velvet teddy infatti mi è rimasto il correttore che veramente di mac 24 ore c'è una lenticchia ed è il sesto prodotto e mi voglio andare a riprendere con questi prodotti velvet teddy perché veramente un nude veramente veramente bello che sta veramente bene con qualsiasi trucco voi facciate e quando l'utilizzavo mi facevano tutti i complimenti mi chiedevano che rossetto era poi ho finito due mascara ho finito questo lo sky eye che non so se era già secco quando l'ho aperto o meno l'ho veramente utilizzato pochissimo e non mi ha fatto neanche pazzire come effetto quindi da una parte è ok ed è questo qua lo sky eye di maybelline mi faccio vedere lo scovolino era fatto così non mi piace lo scovolino troppo flessibile così perché avendo le sciega corte piccole e poche e sfigatine con questi tipi di scovolino così mi sporco sempre e anche e l'ultimo mascara ho finito è l'intensi metamorfosi della linea di natale tipo edizione limitata di i brochet aveva lo scovolino fatto così troppo lungo per il mio tipo di siglia però è un buon mascara valido niente questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video se io con la matita sbavata però vabbè